aumentare così gli fps sul gioco spara tutto ultra realistico bodycam fatto con Unreal Engine 5 quindi è possibile aumentare gli fps e rimuovere i lag per quelli che hanno comprato il gioco e si ritrovano con una buona scheda grafica ma riescono ad arrivare a massimo 40 fps con tutta grafica epica ovviamente è possibile modificare così le impostazioni grafiche attraverso i pannelli di controllo di Nvidia in descrizione c'è il link per Nvidia App il programma per configurare così la scheda grafica Nvidia ed ecco il nostro programma Nvidia App e poi c'è il programma il pannello di controllo di Nvidia se vado qua sopra tasto destro sopra pannello di controllo di Nvidia tutto in descrizione per scaricare anche l'altro pannello ovviamente andiamo prima sul nostro pannello di controllo di Nvidia vado direttamente su gestisci le impostazioni 3D vado direttamente su impostazioni programma e adesso ci concentreremo solamente su bodycam quindi in questo caso va aggiunto il gioco devi andare su aggiungi fai sfoglia e vai a prendere così il programma exe di bodycam ovviamente questa avevo fatto una cosa anche su Fortnite quindi per farti un esempio fortnetlaunch.exe e vai a prendere anche il bodycam nella sua cartella come puoi vedere qui ho aggiunto tutti i programmi che uso per modificare le impostazioni grafiche su tutti i giochi e i programmi ed eccolo qua bodycam come puoi vedere ho già fatto alcune modifiche al gioco quindi ridimensionamento immagine che sarebbe che aumenta la nitidezza quindi aumentando la nitidezza vedrai bene la qualità del gioco ma riceverai pochi FPS quindi metti disattivato come puoi vedere aumenta la nitidezza metti disattivato l'anti-elias questo qua correzione gamma metti attivo mi faccio anche consigliare da Nvidia anti-elias questo qua disattivato riguardo anche a quest'altra modalità mettiamo controllato dall'applicazione perché poi andremo a fare modifiche direttamente su bodycam pure anti-elias in trasparenza metti disattivato questo qua il buffering triple metti disattivato scheda video scegli quale scheda video usare io metto tutte o solo la 1660 super compatibilità OpenCLCI questa funzionalità metti automatico il filtro anisotropico metteremo così controllato dall'applicazione perché poi andremo poi a modificare quella impostazione su bodycam filtro struttura metti consenti filtro struttura ottimizzazione campione metti attivato filtro struttura ottimizzazione trilineare metti attivato e poi sulla qualità metti prestazioni elevate oppure qualità dipende da come te lo giochi bodycam metti prestazioni elevate migliorerà così le prestazioni diminuendo la qualità sul gioco fotogrammi pre renderizzati uno questo no frequenza fotogrammi massima metti attivo fino a 1000 fps che non serve a niente metti disattivato quello che mi consiglia e invidia metodo di presentazione di buco questo qua automatico modalità bassa latenza metti ultra modalità di gestione dell'alimentazione potenza ottimale il multi frame disattivato questo automatico e questi altri tre invece sincronizzazione verticale se metti attivo ti bloccherà gli fps fino a quanti fps riesci a fare tipo per esempio arrivi a 35 fps te lo puoi anche bloccare a 35 sotto i 35 tipo arriva a 63 fps io uso bodycam visto che non riesco ad oltrepassare 65 fps ma lo tengo su 60 quindi lo tengo fisso sui 60 fps tecnologia monitor compatibilità gsync e quest'altro qua controllato dall'applicazione una volta fatto fai applica applichi così tutte le impostazioni che hai fatto su gestisci le impostazioni 3d del pannello di controllo di invidia e una volta fatto chiudiamo un attimo questo pannello e andiamo su invidia app grafica bodycam.exe impostazioni globali modalità bassa latenza metti ultra potenza ottimale realtà virtuale metti disattivato singolarizzazione verticale usa impostazioni dell'applicazione 3d metti disattivato anche qua ora andiamo su botica ok come puoi vedere questi sono gli fps che riesco a fare anche facendo le modifiche su botica ma attivando il frame generation e attivando anche l'MDFSR3 questi sono gli fps che ottengo mettendo tutta la grafica low e medium arriviamo sopra i 60 fps al posto dei 21-25 fps che facevo prima con la 1660 quindi i settaggi buoni sono questi questo sono riuscito a fare con una scheda grafica che tengo come la 1660 super il processore lighten 5 3600 da 2 gigabyte di ram i giochi mi funzionano ancora bene oggi quindi per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video cercherò di realizzare altre guide a riguardo in alto a destra ci sono i benchmark che ho realizzato con la scheda grafica quindi tutte le impostazioni e alcune impostazioni veramente mi fanno scendere sotto i 20 fps quindi grazie a tutti per questa visione e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao